eccoci qua ri buongiorno a tutti riprendiamo con la carravata mi ha chiamato un amico per il pezzetto tuning d'epoca vabbè ragazzi è tanta tanta roba tanta tanta ragazzi che pezzetto francesina forever a sanghino SL parte del 50 special dell'amico Paoletto l'Italia che non è questa anche se è uno stupendo pezzo è questa l'Italia delta antigrale 500 1300 1200 e furbia che piena pionemetta senza fretta ciao a tutti da me e la regina ciao ciao